Challenge, ovvero sfida, giochi o balli le più innocue, ma poi si sono diffusi anche i blackout challenge, sfide all'estremo, non è il caso di fare esempi. Una di queste avrebbe portato alla morte della bambina di 10 anni di Palermo, si ipotizza su TikTok il diffusissimo social di contenuti video realizzati con il proprio smartphone. La sorellina l'ha trovata soffocata, donati gli organi per volontà dei genitori, andranno a 4 bambini in attesa di trapianto. Sulla solitudine dei ragazzi, il direttore della pastorale giovanile della CEIDO, Michele Falabretti, sottolinea i genitori li lasciano usare i dispositivi purché stiano buoni. Il richiamo va prima di tutto a chi i ragazzi li sta dimenticando a casa senza scuola. La procura, che ha disposto l'autopsia del corpo, sta indagando e ha sequestrato il telefono della bambina. Il problema sono generazioni, giovani generazioni sempre più fragili e proprio perché fragili sempre più esposte al rischio. Il problema sono anche le responsabilità educative degli adulti, devo dire forse soprattutto le responsabilità educative degli adulti. Allora che cosa fare? Credo che l'unica strada sia educare il senso critico e la responsabilità. Parlare, parlare tanto, condividere il più possibile con i più piccoli i loro consumi, i loro dubbi, rispondere alle domande, passare tempo con loro. Questi atti, come si possono evitare? Immagino sicuramente con un controllo non più stretto ma più attento da parte dei genitori, soprattutto in un periodo simile in cui magari i ragazzi sono spinti a fare cose estreme banalmente per occupare il tempo, per coprire le mancanze che subiscono in questo momento. Però secondo me è molto rischioso perché sono cose che se non gli stai dietro e non stai attento possono fare dei danni ai bambini. I genitori come dovrebbero comportarsi? Togliere il telefono, assolutamente, magari controllarli un po' di più. Non ci sono limiti, purtroppo, non possiamo controllarli in tutto e per tutto, nei limiti del possibile si dovrebbe cercare di insegnargli le cose più che limitarli. Bisognerebbe utilizzare questi mezzi per ciò che può essere utile ma non esagerare. Si abitua a stare tutto il giorno al telefono e poi non vuole giocare, non vuole fare niente, non vuole fare i compiti. Io non penso che sia il social media quello che porta i ragazzi a fare determinate cose, ma magari è la mancanza di un determinato tipo di educazione. Siamo attaccati ai telefoni per vedere i cartoni, TikTok, che TikTok può essere anche pericoloso. Che viene una cosa su internet la vogliamo fare, quello è il problema. Sua figlia le chiede il telefono spesso? No, non me lo chiede, però mi chiede di vedere i cartoni e quindi automaticamente li faccio vedere lì. Non mi piace molto questa cosa, cercherò di tenerlo il più possibile lontano finché si può.